Poco fa ho letto sul sito che il capitano se ne va. Gli hanno dato tanti soldi e una casetta in Canadà. Già si stanno scatenando i diffusi di ogni età. Non sapevo, ma è scenario, è il quale sarà. Tu che sei il capitano, o no, non le pensate. Ma perché tu a cosa pensi quando vai a faticare? E che pensa il presidente? Cioè lui la pensa come noi, pensa il cuore, pensa meglio, o pensa sulle casse suoi? La malinconia mi piglia e non voglio fare ruffiano. Perché dico ma che cazzo, l'unico napoletano. Ma sicuro mi corregge chi qua sopra è professore. Ma napoletano è che? E che fu un fratto maggiore, che se fa questo domande. Ma da dove vieni, bello? Questo sai che ti rispondo. O frate, si vuoi cadere? Perciò caro capitano, pensa solo alla tua sorte. Ma Toronto non è fratta, perciò dico assato a corto. Fate solo le esperienze in territorio americano. Tu non fai paura di niente, tu sei asciuto all'asse mediano. E se non capisci niente, lo linguaggio che li parte, tu reagisci come sai. Dici che va un pochino di mamma. Ma lo re mi raccomando, che su tempo che rimane devi dare il cuore e l'anima. Perché sei napoletano. Che si succede o fatto, per invece salutare. Noi raccomandiamo a per, fino a interno del canadà. Noi raccomandiamo a per,